In un unico lotto, con un'unica proprietà, con tre unità abitative separate, distinte, autonome tra di loro, rientrano tutti e tre del super bonus? Oppure può essere considerato come condominio e quindi di conseguenza più di due unità abitative come proprietario non può usufruire del 110? Sicuramente è il contrario. Le stiamo per dire anch'io, c'è un po' di confusione. Se tu le consideri come delle unità immobiliari indipendenti e quindi come monofamiliari, vale la regola che non si può fare nessun intervento su più di due unità. Se tu le consideri come condominio, anche se è composto fino a quattro unità dello stesso proprietario, puoi accedere a tutte le agevolazioni del super bonus. Sulle parti comuni? Sulle parti comuni, sui tre dati vale sempre la regola delle due proprietà al massimo. Quindi questo è un unico lotto con tre ville separate, non posso accedere perché non è il condominio? No, sono tre unità assolutamente autonome, non le puoi considerare il condominio e quindi se sono di un unico proprietario potrà fare l'intervento solo su due delle tre.